ciao sorelli marocchini oggi siamo qui per scaricare un nuovo video su come la stessa vabbè poi scaricate fai torrent che trovate nella descrizione adesso fate il tasto destro apri cartella download e avviate il .exe che vi trovate qui ok ok next 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 e installiamo mio taglio finchè non è finito ok ragazzi ha finito di installare non ne frega ok